E' una campanella, la squilla, che suona la sera del 23 di dicembre dalle ore 18 alle ore 19, però la campanella suona tutti i giorni alle ore 8, ma nessuno l'ascolta. Stranamente la sera del 23 di dicembre questa campanella, da una voce veramente insinuante e accattivante, riesce a compiere dei grandi miracoli, perché secondo me il nucleo fondamentale della squilla è questo. A Natale bisogna far pace, quindi togliere via tutti gli odi e i rancori bisogna far pace. E' una esigenza che nasce per un credente dalla riflessione, dalla meditazione sul mistero del Cristo che nasce, del Cristo che viene a salvare l'umanità. Allora che cosa succede? Succede che, dovrei dire forse anche succedeva, perché oggi i tempi sono cambiati, succede che quando comincia a suonare questa campanella tutti devono tornare a casa per trovarsi in tempo per questa specie di rito della squilla, di rito che è profondamente religiosa della squilla all'interno delle famiglie.